Amore! 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 Pasquale! Pasquale! Pasquale? Pasquale io te amo! Si è vero nell'interlocuzione delle regioni che sono... Perché non mi rispondere? Pasquale! Tu perché non mi rispondere? Carmela tu ma come cazzo parli? Tu dopo venire con me! Pasquale! Tu adesso andare via! Carmela! Oh! Quanto dolore! Pasquale! Che? Pasquale! Ma cominciamo a andare da volto! Pasquale io! Carmela? 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 Me lo dici alla prossima puntata! Carmela, vai? Stop frizz! Carmela! Pasquale io! Ho preparato il pranzo per noi! E tutta questa pausa? Pasquale! C'erano i consigli per gli acquisti! Io ho un consiglio di tuo carmai! Fattelo lei! E' la suspense! Carmela, ti hai preparato no? Torno! E' cebolla! Cepola! E' cebolla! Pasquale! 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 che parla? Pasquale! Tu stai fumando? No! Mi sto facendo una barba! Pasquale! Tu fuma come un turco! Tu fumi come un turco! Io fumo, tu fumi, egli, egli fuma! Pasquale! Fumare come un turco non farà di te un... Cham... Cham... Yaman! Si Carmela, ma parlare spagnolo non farà di te una Belen Rodriguez! Saluto l'ho sognato! A chi? Stati fino a fare? Cham... Yaman! E l'ho capito ma... Cham... Yaman, 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 Yaman! Attenta, attenta, attenta! Ho capito! Pasquale no! Non nascondere la tua... E' sofferenza! Il suo pianto! Urla, Pasquale! Urla! Manifesta la tua gelosia! Pasquale, ma io devo andare da lui! Lasciati, Pasquale! Non so tenermi, Pasquale! Io devo andare da lui! Ecco, Michel! Arrivo! Lasciati! E sta! Io no! Non va a fare un good ways! Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale YouTube, mettete mi piace a Facebook e seguiteci su Instagram! Se non vi è piaciuto, facetevi... Mostri!